Senti, quanti anni hai che sei qui, Luigi? Non so, muoio. È morto Carlo D'Arpolo. Carlo D'Arpolo? Stai in galera. Quello sui giornalisti. Ercole chi era? Ercole? Boh. In America che fanno americani? In America? Eh, fanno un sacco di cose. Fanno nei ristoranti. Vanno pure nei ristoranti. Ma lo sai che mi piacciono tanto le cose che dipingi? Io vorrei stare solo per l'affare mio. E dare un prego in avanti. Per conto mio.